la donna non figurava ma comandava testimonianza di bartolomeo spada detto tumè de rubatin nato a vignolo classe 1878 negoziante di bovini nell'altro secolo la gente viveva come i maiali un po di polenta riso e fagioli tanti facevano la fame c'era solo la campagna su cui vivere se l'annata andava bene si mangiava altrimenti tiravano o stringevano le museruole cioè la cinghia in primavera i primi soldi erano sempre quelli dei bigat compravamo il seme lo portavamo a benedire dal prete poi al prete regalavamo il ramasette un mazzo di rami di erica con sopra i bozzoli più belli così la partita più ricca del paese era sempre quella del prete era uno importante il prete sveglio svelto la gente diceva i preti sono solo capaci a prendere orate per me e per gli altri se ce n'è in molte case carne non ne vedevano mai il caffè di segala o di orzo era già un lusso il vino si beveva solo all'osteria in vignolo c'erano nove osterie e in più la società la mia parte di vino l'ho bevuta cinque o sei litri al giorno uno a colazione uno a pranzo uno a merenda uno a cena e poi continuavo se tutto il vino che ho bevuto lo mettessero lassù dalla costa di san purizio poi dargli via libera porterebbe via vignolo quando nel commercio era un po' bevuto le parole venivano più a filo molti in vignolo facevano una vita di miseria eppure la gente era più allegra che adesso tutte le sere si andava in veglia a vedere la ragazza si partiva fino a otto dieci si arrivava magari fino a piano quinto a carnevale a chi aveva fatto più veglie nelle stalle gli davano le paghe erano quelli delle stalle che ringraziavano avevano aperto le stalle in autunno e a carnevale stavano per chiuderle era un onore aver avuto magari venti giovani fissi che frequentavano una stalla dava lustro alla ragazza passavamo a cercare le paghe da una stalla all'altra una volta a santa croce di cervasca ho riempito la gorba ho raccolto otto dozzine di uova noci mele e frittelle dolci da vent'anni a questa parte si è perduta anche questa usanza da quando è arrivata la televisione non si va più in veglia noi eravamo cinque figli avevamo dieci giornate tutta campagna tutta terra buona e tre bacche eravamo tra i più ricchi metà del paese avevano solo capre molte delle case di vignolo erano ancora con i tetti di paglia case povere c'era tanta popolazione ho fatto la terza elementare cento scolari da una maestra sola la teppati di caraglio una maestra sera che insegnava bene mio padre era del 1847 quando si è sposato non aveva un soldo quando è morto aveva 20 giornate sue è stato sindaco e consigliere di vignolo 50 e passa anni allora c'erano due o tre partiti mio padre teneva per galimberti quando galimberti veniva in piazza a fare la parlata c'era mezzo paese ad ascoltare il giorno delle elezioni i candidati offrivano da mangiare da bere agli elettori ogni partito aveva la sua osteria da mangiare una scodella di trippe e la carnetta carne di capra o di pecora bollita pagava galimberti o pagavano quelli che volevano uscire consiglieri gli elettori venivano anche dalla francia i candidati gli offrivano le spese del viaggio una volta galimberti ha perduto le elezioni ha fatto la parlata ha detto adesso che la pianta è vecchia volete buttarla giù la campagna serviva solo per vivere anche oggi c'è gente qui a vignolo che vive solo sulla terra ma vive come vive molti emigravano in francia e in america io l'avevo già qui l'america io negoziavo chi faceva qualche soldo lo faceva commerciando eravamo cinque nel commercio delle bovine mio padre e noi i quattro figli la nostra zona era la valle stura da gaiola ad argentera la parte più povera della vallata era la mezzanotte il fianco esposto al nord da festiona in su a demonte c'era gente che aveva sette otto vacche i più ne avevano due o tre noi risalivamo lungo la vallata commerciando e comprando scendendo raccoglievamo il bestiame tutto a piedi bisognava conoscere il mestiere sapere come prenderli contavamo un po di frottole prima cercavamo l'uomo che era stimato gli pagavamo bene la sua bestia gli davamo la buona mano la marcia poi quello convinceva gli altri a vendere era ancora bel da dominare se la donna era decisa a vendere compravamo a buon prezzo se la donna diceva al marito di non vendere non c'era più niente da fare la donna non figurava ma comandava una volta in un giro solo abbiamo comprato 77 vacche allora c'erano le bestie il giorno della fiera sulla piazza di demonte si contavano 3.000 4.000 bestie di lusso venivano fin da alessandria a comprare grazie a tutti 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 grazie a tutti